Allora, questa azienda nasce nel 2021 con l'intento di portare il metodo messinese qui a Palermo perché ha una lavorazione diversa, la granita come vedete è molto più cremosa rispetto al classico metodo palermitano. Prendiamo direttamente la materia prima e la frulliamo insieme ad acqua e zucchero rendendo le nostre granite molto molto cremose.